buongiorno venerdì 12 febbraio io sono guru ultima puntata della settimana del bet italia web daily show ieri i più attenti saranno accorti che non siamo andati in onda purtroppo andiamo in onda anche oggi con una puntata più flash daremo praticamente solo le giocate estrapolate dallo studio di d'artagnan sul calcio per tutto il weekend anzi fino a lunedì perché andiamo fino al posticipo di serie a e iniziamo da oggi tra l'altro con le final 8 di coppa italia di basket puntate che continueranno in versione flash anche la prossima settimana prossimamente per problemi tecnici e personali comunque ci siamo per tutti gli approfondimenti vi ricordo sempre i nostri canali telegram e instagram per esempio continuano gli australian open di tennis se c'è il canale di di darius nel weekend oltre alle final 8 di basket continuano anche sei nazioni di rugby il nostro insider ci darà sicuramente qualche giocata nel vip di betting maniac mentre nel free abbiamo lanciato un sondaggio inizieremo una scalata la prossima settimana e avevamo fatto scegliere a voi con chi volevate giocare questa scalata e con quali sport si poteva votare tra d'artagnan con i principali campionati di calcio europeo striker con il calcio sudamericano insider con le sue specialità dall'hockey cup hl al volley passando per il basket europeo rugby e poi c'ero anch'io con gli sport americani incredibilmente avete votato proprio per me di un pelo su insider quindi dalla prossima settimana io non è che sono un amante un appassionato delle scalate però ci proviamo con gli sport usa proviamo a incassare qualcosina sarà molto for fun con importi davvero bassi io pensavo di stimare un budget di 20 euro così per divertirci ma per cercare di farli diventare molti di più adesso i dettagli usciranno nel weekend non so se domani o domenica comunque iscrivetevi al nostro canale free di telegram betting maniac e attivate le notifiche io direi di passare subito alla ciccia alla carne e alle free peak che saranno sei oggi niente calcio lasciamo stare i posticipi del venerdì di calcio ci concentriamo però sulle final eight di coppa italia insider ci dà una giocata su sassari pesaro sassari meno 5 e mezza 1 e 71 insider ci dice che sono i quarti di finale di coppa italia favoriamo sassari che potrà vincere di sei o più punti contro pesaro che tra l'altro ha già schiantato per 99 74 in campionato nell'ultimo precedente tra l'altro del mese scorso quindi abbastanza recente tra campionate coppi sardi hanno vinto le ultime cinque partite e otto delle ultime nove quindi si presentano in buona forma alle final eight che vi ricordo si giocano a milano come seconda giocata passiamo subito al calcio il resto delle giocate che sono cinque sono tutte di d'artagnane tutte sul calcio estrapolate dal suo studio sulla serie a che oggi trovate oggi non riportiamo qui sul podcast lo trovate nel sito di bet italia web tra pochissimo ci sono due big match napoli juve su cui diamo addirittura due consigli e interlazio su cui invece abbiamo optato per un no bet ve lo spoilerò già perché l'inter è molto favorita però ha giocato in settimana in coppa eliminata dalla juve tra l'altro con tutto quel casino quella barra onda tra conte e agnelli la lazio in grande forma abbiamo abbiamo deciso partita difficile da leggere abbiamo deciso di lasciarla stare nemmeno un consiglio anzi il consiglio è proprio no bet comunque veniamo alle giocate e vi ho detto però su napoli juve sull'altro big match d'artagnane ci da due idee divide l'investimento in due giocate la vittoria della juve a 2 0 4 e l'under 2 e mezzo a 2 0 1 quindi due raddoppi sarebbero napoli in emergenza tra l'altro la situazione di gattuso è sempre più difficile per la panchina del napoli leggevo che sono scese le quote di de zerbi del mio sessuolo un po mi dispiace per subentrare a gattuso comunque napoli in emergenza non c'è gulam non c'è isai non c'è culiba limano las dem e pure mertens almeno di tamponi negativi dell'ultimo minuto nella juve invece dibala non ce la fa ramsey si è allenato in gruppo però dovrebbe iniziare dalla panchina morata invece in attacco con ronaldo dietro delitte chiellini probabilmente perché bonucci è in forte dubbio artura un problema alla gamba probabile il suo forfè la juve non subisce gol da tre partite consecutive di serie a e tra l'altro il napoli con 2,9 e la juve con 3,2 sono le due squadre che subiscono in media meno tiri nello specchio della propria porta in questa stagione di serie a quindi per questo andiamo sull'under ma andiamo anche sulla juve che potrà approfittare dell'assenza del napoli della situazione non semplice che deve gestire gattuso e finalmente pirlo sembra aver trovato una quadra nei bianconeri che devono rimontare non possono perdere altro terreno tra l'altro questa era la partita tanto contestata che non si è giocata l'andata per il casino dei tamponi della regione eccetera subito era stata data vinta tavolino alla juve adesso si dovrà rigiocare quindi partita quanto mai sentita importante proviamoci anche se siamo al san paolo anzi allo stadio diego armando maradona spostiamoci a domani come come multipla di serie a che ci accompagnerà per tutto il weekend il nostro d'artagnano oggi gioca a 3,39 stake 0,5 ha messo insieme quattro partite ancora la juve x2 a napoli proprio ci crede nella juve domani giochiamo poi con il milan vincente la roma segna per prima e l'over l'overino over 1,5 tra samp e fiorentina allora della juve abbiamo già parlato aggiungiamo la vittoria del milan che ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo spezia realizzando sempre tre gol lo spezia tra l'altro ha raccolto solo il 29 per cento dei punti di questo campionato in casa questa è la percentuale più bassa di tutta la serie a come rendimento interno il fattore campo insomma per lo spezia non è così decisivo il milan è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolate in serie a benotto clean sheet esattamente il doppio di quelli dello spezia prendiamo anche il roma segna per prima da una parte la roma è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato benotto come i cugini della lazio dall'altra nessuna squadra conta meno gol dell'udinese nello stesso arco di tempo una sola rete nel primo quarto d'ora come lo spezia la roma è anche rimasta in vantaggio per 518 minuti e sotto nel punteggio per soli 49 minuti in questa serie a sono entrambi due i due numeri migliori sono i due rendimenti migliori intanto capitano degli intermezzi che fortunatamente non vedete a video comunque dobbiamo chiudere la multiple la chiudiamo con san fiorentina over 1 e mezzo nelle ultime dieci sfide tra blu cerchiati e viola in serie a entrambe le squadre sono sempre nata a segno producendo in particolare 3,5 gol di media a match quindi speriamo di vederne almeno due oggi passiamo a domenica san valentino premier league doppia di d'artagnan sempre a 1 e 70 qui andiamo con lo stake standard stake 1 west bromwich contro united vittoria dello united e poi l'1x dell'everton in casa contro il fulham i red devils possono fare i tre punti sul campo del west brom che è penultimo ha incassato solo un punto nelle ultime 5 partite e tra l'altro ha perso gli ultimi due precedenti in casa oltre allo 0-1 dell'andata all'ultrafford andiamo anche con l'1x dell'everton la prendiamo in doppia chance solo perché ha giocato in settimane in FA Cup con tanto di supplementari in una sfida molto combattuta col tottenham qualche giocatore non è il meglio però almeno un punto in casa contro il fulham ce lo aspettiamo pensate che il fulham non ha mai vinto nelle ultime 14 partite compreso il 3-2 dell'andata in casa contro l'everton e non ha mai vinto nemmeno negli ultimi 15 viaggi a goodison park che è un vero tabù chiudiamo al lunedì con il posticipo ci muoviamo già su verona parma combo bet 1x più under 3.5 1.70 anche questo stake standard Verona e Parma non hanno mai pareggiato in otto precedenti in terra veneta in serie A però in questo arco di tempo si contano sei vittorie degli scaligeri incluse le ultime quattro contro le sole due vittorie dei ducali il Verona ha perso le ultime due di campionato ma con Ivan Juric alla guida non ha mai infilato tre sconfitte di fila in serie A speriamo che non lo faccia neanche questa volta dall'altra parte il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite di campionato 4 pareggi e 8 sconfitte e tra l'altro ha segnato una sola rete nelle ultime 7 davvero rendimento disastroso dei ducali che fanno molta fatica in attacco il Verona ha avuto una delle migliori difese del girone d'andata andiamo quindi con quest'1x più under 3.5 e io vi ringrazio oggi non abbiamo nemmeno la bruttissima grafica finale di recap vi ricordo che noi se tutto va bene ci risentiamo lunedì speriamo sempre con un'edizione veloce incentrata solo sull'epic so che a qualcuno farà piacere questa cosa ad altri un po' meno però andremo avanti con questa versione veloce che poi tanto veloce non è perché siamo comunque ai 10 minuti anche oggi io vi ricordo di continuare a seguirci su tutti i nostri canali Telegram e Instagram oggi pomeriggio in serata ci sono su Betting Maniac le giocate sugli Sport USA come al solito c'è il canale di Darius per gli Australian Open insomma continuate a seguirci lo sapete io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata e un buon weekend fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa ciao